SportsMall.it, siamo qua con Danilo Gotti, ciao Danilo, ciao a tutti, raccontaci un po' di questa tua stagione che è stata a cominciare, questo 2015, il pleno di impegni e quello che è stato per Tengu nel 2014. Beh, diciamo che dovrei fare forse un paio di passi indietro, perché io ho smesso di correre nel 2011, ho quasi praticamente smesso, ho cominciato a lavorare dopo tanti anni di alto livello nel gruppo studio Carabinieri. Nel 2013, metà maggio 2013, ho voluto ricominciare e l'ho arrivato poi bene come puntata ai master, che è una palla di età e quindi cerco di essere un protagonista anche nei master. Sono andato a vincere il titolo New York. Nel 2014, avendo avuto Milano come sede campana italiano, ho detto perché non provarci e mi sono buttato e ho vinto il titolo italiano nella maratona dopo 19 anni, dal mio primo titolo italiano sulla maratona, che era il 1995, ho venuto il mio esordio. Ed è stato l'inizio di un anno fantastico, perché poi sono stato vicino alla convocazione europea, non mi hanno portato per un po' di età, un po' di tempi e quant'altro, mi sono messo ancora a rimbloccare le maniche e sono andato a New York e ho divinto il titolo master, nonché arrivando a 15 anni. Quindi credo che la mia stazione si divisi in due parti, primavera il titolo italiano, autunno il maratona di New York, qui ci sono 4. Il meglio non posso fare. E quest'anno, nel 2015, l'obiettivo è fare una zama natona in primavera, magari sempre a livello master, tipo non so posto, non so... Il tuo è un bellissimo esempio, perché comunque noi che ci regoliamo soprattutto ai giovani, dovremmo cercare di trasmettere anche dei messaggi positivi. e il tuo che hai da poco superato la maggiore età, diciamo così, è sicuramente un bellissimo messaggio. E cosa vorresti dire a tutti i giovani che ci ascoltano cercando di attirare la loro attenzione sullo sport? Sinceramente, guarda, io sono arrivato a quello che ho, adesso, nel mio 43esimo all'età e sto ancora bene. Quindi vuol dire che intanto la fatica non fa male, perché la fatica è fatica, sudore e poche secondi, non è calcio. Quindi, chi si sa da guadagnare, sicuramente la fatica non fa per noi, però a noi sportivi minori, sport minori, bisogna di risolvere, ma ci piace fare quello che amiamo e quindi io credo che la fatica sia un modo per veramente di appassionarsi a uno sport bello. E io voglio dare un esempio proprio per questo, cioè di dire che nonostante gli anni che passano, forse è sempre competitivo. E allenati bene, seguiti bene, vogliati bene come ho stato io in questi anni, seguiti bene soprattutto dalla società, dagli allenatori, dai genitori e tutto. Non si può che non andare lontani, la voglia non ci manca e invece tutti i ragazzini a venire a fare l'atletica perché non si è bello. È uno sport bellissimo, meno pratica, lo so, però io credo che ne vale la pena. Stai attento, non dividi la gioia con gli altri e quindi sono potetissimi. Grazie mille a Danilo Coffi da Sport World. Grazie a voi.